Ciao Simo, l'argomento è la valutazione degli immobili, premettendo che nell'agenzia in cui lavoro io facciamo un lavoro abbastanza intenso, quasi 18 pagine di dati, anche secondo me però comunque alla fine è per arrivare alla famosa forbice. La cosa che a me stupisce sempre è una cosa più di tipo psicologico nel rapporto con il cliente, che anche quando è una persona strutturata, laureata, preparata, ti dice quell'altra agenzia mi dà. Mi dà cosa vuol dire? Mi dà una valutazione ma in realtà mi darebbe più soldi, cioè nel senso voi mi date 100 mila, loro mi danno 120 mila, io faccio letteralmente fatica con persone intelligenti, tra l'altro perché è quello il problema principale, a far capire che nessuno dà niente, cioè io ti sto facendo una valutazione, poi il mercato che deciderà quanto la tua casa realmente vale nella forchetta che io ti ho indicato e quindi volevo sapere nella tua esperienza, dal punto di vista più psicologico che altro, come sei riuscito un attimino a cambiare, a trasformare questo concetto. Allora, quali sono le obiezioni comune? Quell'agenzia mi dà 30 mila euro in più, quell'agenzia mi chiede il 2% in meno, quell'altra agenzia non mi chiede di firmare niente, sono sempre le stesse in tutta Italia, giusto ragazzi? Qual è il concetto? È che tu devi partire dal problema e non puoi risolvere il giorno che sei lì, ma devi tornare indietro nel processo e capire quando risolvere la questione. Per esempio, se tu percepisci, se io avessi un problema di questo tipo, quello che andrei a capire è perché mi dice sempre così se diventa un partner comune. E allora a quel punto in prequalifica farei delle cose e i video che gli manderei sarebbero su quella cosa lì e quando faccio la listing presentation direi questa è una persona che come lei era partita da 40 mila perché gli avevano promessi, guardi che cosa è successo. Però ricordatevi, un'obiezione non si gestisce quando c'è, la devi prevenire. Ve lo dico, non si può fare. Cioè vi dico, ci parliamo chiaro? Cioè se io vado da mia figlia che è 13 anni e gli faccio la PNL col calco e ricalca guida, mi manda a fare in culo, non so a voi, cioè quella roba lì è finita ragazzi, vi è chiaro il concetto? Che è finita questa roba qui? Cioè dall'altra parte si accendono mille spie e dici ok dai questo è un umanoide, mi sta prendendo per il culo. Per cui in realtà va gestita nel processo la soluzione di questa roba qui. Assolutamente. Della prequalifica deve emergere questa roba qui. E a quel punto ci devi lavorare. Nel processo, il segreto è nel processo d'acquisizione. Grande. Andiamo giù di là. Ragazzi io sulla PNL non ci credo, basta. Cioè se tu a me fai la PNL io vado via. Perché vuol dire che tu non stai ragionando con la tua mente ma con delle tecnicucce di 50 anni fa. Poi questa è la mia opinione. Vai. Simone allora, questa è una cosa che mi è successa più volte. Faccio l'open house, ritiro più proposte, il venditore accetta la proposta di una persona che non ha un immobile da vendere o ha già venduto. Gli altri avevano tutti un immobile da vendere ma ovviamente sono scontenti perché non hanno tenuto la loro casa. Come li acchiappi? Dipende dal tuo posizionamento. Qual è il tuo posizionamento? Il mio è voglio realizzare la miglior cifra per il venditore. Per cui io gli devo portare la miglior. Se quello che mi fa l'offerta è uno che non ha da vendere l'immobile, eh ragazzi una martellata nelle palle me lo do. Però io ragiono così. Cioè nel senso che quello che si dice bisogna che sia anche quello, cioè in realtà parte, io dico quello che penso. Per cui se il tuo posizionamento è voglio essere la migliore scelta per il venditore, eh ragazzi io lo so che lascio sul tavolo un incarico però... Ma gli altri li perdi? Cioè non riesci ad agganciarli? Ecco, cioè il tema qual è? È che non sempre, cioè non c'è una soluzione, non c'è un modo, quello si incasta, lo so anch'io. Quindi non mi è capitato tante volte, ti dico la verità, però non c'è una soluzione, cioè non ti riesco a dire guarda devi fare così, così risolvi tutti i problemi. Quando uno si incasta, si incasta ragazzi, cioè anche lì provate a gestire l'incazzatura, cioè io non ho mai ridato gli assegni indietro alle persone che non c'era l'accettazione dell'offerta, lo faceva o il buyer o la Sonia. Fai un'offerta, sei offerte, una l'accetta, cinque no, no? Cinque gliele vogliamo ridare, l'assegno ce lo teniamo noi. Glielo ridiamo? Eh cazzo no, non darglielo tu, non sei tu che glielo devi ridare indietro, perché è chiaro che è incazzato. Avete capito? Cioè avete sei proposte, con sei assegni. Uno accetta, cinque no. E ho cinque assegni in mano. Cosa faccio con cinque assegni? Me le inverto? No, le devo ridare. Io, se posso darvi un consiglio, fatelo dare al buyer. E siamo a tre. Eh? Dieci assegni. Ok. No, vedete, cioè, se non lo dà listing è meglio. È questo che voglio dire. Ok? Grazie. È questo che voglio dire, Linda. Se no, speditelo con DHL. No, a parte gli scherzi, non c'è una soluzione. Allora. Allora. Allora.